bella a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video io sono brutal e oggi signori ci troviamo nel secondo episodio su infemus nello scorso episodio ragazzi siamo stati letteralmente infettati dal potere di un conduit che sono queste persone che hanno la capacità di controllare degli elementi e abbiamo conosciuto una tipa diciamo che lavora per il governo ma anche lei con i poteri che sta complottando qualcosa ora noi dobbiamo riuscire a ritrovarla per fotterle il suo potere e andare poi a salvare tutte le persone del nostro villaggio a cui lei diciamo ha sottoposto un trattamento non gradevole quindi signori partiamo subito ok rega nel caso ci avesse ripensato piove perfetto stai scherzando è uno spettacolo questa è solo distruzione questa è autodifesa regge ok allora vediamo un po perché sono bioterroristi merda rega secondo me queste placone enormi le ha costruite quella tipa la è qui si infatti rega qui c'è tutto del neon questo potere disponibile in altri colori che fuori vediamo un po bella rega però non sembra piacevole non sembra per niente piacevole rega sto molto meglio di bere credo di avere un nuovo potere ok se stai fermo un secondo grazie perfetto rega non può fare niente questo non è il punto in cui arriva regge e mette tutto a posto non è questa non è una responsabilità tua riguarda me mi sembra un po complessato però il nostro protagonista nei confronti del fratello e rega andiamo insieme forse perché è più grande poliziotto è un po complessato è il nostro nostro amico vediamo un po raccogli frammenti di espressione del drone ok vediamo un po assorbi oh si ok aspetta lo stavo usando oh ha esaurito l'energia trovo una fonte merda rega come mi ricarico io per tirare giù i droni mi ricarico mi ricarico mi ricarico non mi ricarico cosa c'era qua dalla macchina oh si perfetto allora dove sono i droni droni bastardi bam uno bam due ok raccogliamo perfetto ok la barra del fumo mostra le tue risade di energia mi sta bene questo li devo sparare si quanto pare si ok quattro famenti di quattro arrivo brothers sarà non è questo ok allora andiamo a vedere distruggi le barriere oh mio dio queste qua ah ho capito questo è il pullman e dobbiamo distruggere le barriere per far diciamo così passare magari con un attacco più pesante devo trovare un modo più rapido ok premi opzioni per accedere alla schermata dei potenziamenti vediamo un po' rega eh siamo ancora praticamente nel tutorial ok eccoci qua premi x per espandere la schermata dei potenziamenti va bene premi x per potenziamento esplosione di cenere ok qui c'è proiettili di fumo assorbi fumo eh niente in questo caso qui ragazzi penso proprio che dobbiamo potenziare questo per forza ok l'abbiamo sbloccato neanche potenziato tieni premuto R2 per rilasciare una potente esplosione di cenere va bene proviamo ok così ci siamo così ci siamo raga perfetto ora quello che mi chiedo però è come passano ok no ce l'hanno fatta passare qua vediamo un po' ci sono altre barriere distruggi la barriere c'è niente che bloccano l'autobus perfetto ok da qui la strada è libera ora posso salire e viaggiare comodo fino a si alto perfetto rega grande mezzo visto che gli abbiamo ah ok abbiamo tolto le barriere e possiamo usare l'autobus per andare fino a si alto e cosa sta combinando sto tipo cosa cazzo sta combinando rega Delsin c'è un problema dei passeggeri ti hanno visto fare le tue super magie sgombrare la strada e hanno paura di te cosa senti te l'ho detto i bioterroristi non sono troppo apprezzati ma li abbiamo aiutati se vogliono relegarmi nei posti in fondo no che vogliono tu stia fuori capisci non vogliono farti salire ok dicono che se sali tu scendono loro che vadano a piedi che importa guarda che non ci metto niente a spavare la ponte chi ha non ci pensare nemmeno questa gente non ha mai visto niente del genere e ha paura ok e non li biasimo ha detto che sfonderà la porta via signore mi dia un secondo senti riporto dall'altra parte del ponte e poi torno a prenderti ok ci metto 5 minuti dai capisci anche tu che non posso farti salire 5 minuti eh raga adesso si sente emarginato è bello che gli abbiamo pure aiutati a cui gli hanno visto che non siamo malintenzionati e secondo voi io lo aspetto qua ascolta attiva il tracciamento gps del cellulare nel caso ci separassimo ah intendi come adesso oddio raga questi bei fasci di energia che cosa sono merda cazzo sono tipo spade anche là c'è dell'energia ci sono fasci di energia ovunque ma io non li posso assorbire perché non sono del mio tipo di potere attenzione la demolizione programmata del ponte 520 ordinata dal avrà inizio a breve ok i cittadini e i veicoli hanno l'ordine sembra un'informazione utile dobbiamo andarcene alla svelta ok raga dobbiamo andarcene via alla svelta stanno per demolire il ponte qui c'è qualcuno minchia oh ma perché gli danno del terrorismo oh ma che cazzo spara così così a caso vabbè cioè ci danno dei terroristi così a caso soltanto perché abbiamo il potere ma non vedono se siamo buoni o cattivi questa storia della guarigione rapida mi tornerà utile eh sì direi proprio di sì e niente raga qua si spara bam bam ok non mi pare che abbia posto ultra resistenza vieni qua bestia ti ho detto vieni qua buongiorno ragazzi bam 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 bastardi e tu dove vai dove cazzo pensi di andare ok fantastico ok ok mi arrendo eh adesso ti arrendi eh faccia di merda ok sottometti attacco in minischia lo sciacallo si è arreso premi triangolo per sottometterlo ottenere karma positivo premi quadrato per giustiziarlo ottenere karma negativo allora ragazzi sinceramente io non so che cosa cambierebbe non so se devo per forza fare il buono visto che ho cominciato da buono eh sinceramente io io lo ammazzerei eh sono sono onesto però dai per il momento non siamo dei mostri sottomettiamolo dai ci sta ragazzi ci sta anche fare fare il buono in questa maniera qui dimostriamo che non siamo tutti dei mostri merda stanno cominciando la demolizione oddio ok perfetto cioè perfetto un cazzo di niente però vabbè alla fine forza reggi rispondi dai siamo fuori regà qua c'era un ponte non è per dire e come cazzo andiamo dall'altra parte mo no vabbè forse ce la facciamo dai forse ce la facciamo al limite andiamo a nuoto o no salto ok oddio assorbi ok vediamo un po' regà ok abbiamo preso una specie di di volo all'iron man penso salta mentre ti trovi su un'auto per lanciarti in volo ok proviamo vado grande ok regà ci sta zio bordello ci sta zio bordello regà assolutamente scusami teso ne approfitto ok là c'è un altro di quei cosi che forse ci sbloccano un altro potere vediamo un po' assorbi non ho idea di che cosa siano questi nuclei ma io li assorbo perché mi danno potere regà ok vediamo un po' ah tipo doppio salto ora o forse è senza necessitare della macchina tieni premuto x dopo il salto per planare ok perfetto regà perfetto anche su prototype c'era la planata sono non è vero assolutamente e divertiti ma quanto l'adoro sta vecchietta raga te ditemelo quanto l'adoro esegui lo scatto fumo e poi plana tieni premuto x per superare i baratri più ampi ok regà ci proviamo oddio allora vado dall'altra parte scatto fumo e x fantastico raga fantastico veramente ok ma qui sta crescendo del cemento o mi sbaglio ma quando finisci ponte maledetto oddio 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 dai che ci sono ne posso fare solo uno di scatto eh regà ci ho provato ok comunque ci siamo eh ci siamo raga ormai siamo qua sapete che mi sa che era meglio che assorbivo del fumo da quella macchina ok lo scatto lo posso fare comunque quando cazzo mi pare a me santo dio fantastico regà fantastico veramente bellissimo questo gioco no merda c'è il nostro fratello là dentro oddio si è salvato un cazzo di pro aiuta reggi prima che precipiti va bene arrivo fratellino fratellone poi non fratellino vai là allora allora eccomi qua arrivo dai che erano su minchia come si stava tenendo male raga stava tenendo malissimo grazie per la mano prego ma gli altri che c'erano sul pullman stai imparando a controllare i tuoi nuovi sintomi non li chiama poteri eh niente che c'è che pro nessun problema e qui tizi armati fino ai denti che ora vogliono farti male sono dettagli minchia raga non vedo l'ora poi di rifarmela da cattivo la storia la prima scelta la dovrò forzare da dio eh per quella vecchietta e così va bene no non posso assorbire il fumo dalla nave dalla nave raga dalla macchina no ok mi hai rovinato la vacanza a Seattle è ufficiale ok allora io lì vedo minchia merda raga una settimana siamo rimasti in quel cazzo d'ospedaletto là eh va bene non c'è problema raga io procedo ok test zone vediamo un po' non so che cosa dobbiamo fare a lui l'hanno già aperto non mi vuole sull'autobus non mi fa conoscere gli amici non ha tutti i torti cazzo merda raga c'è da mettere la mano lì eh qua ci stampano al volo ci stampano al volo raga ok tocca a noi raga tre due uno stampati oddio eeeh madonna raga che spettacolo colpave ci sgama eccolo ma come uso della forza autorizzato facciamo il meglio delle tre merda raga perché lì c'è qui c'è questa freccia apri porta ok e adesso cioè raga una volta che sono qui merda qui ci sta sparando dietro eh ok raga io questi qui questi qui li ammazzo raga fermati qua tu sei giù ok che rega non sprechiamo troppo il fumo sì 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 non ammazzo i civili tranqui ahia sto subendo troppi danni raga via ok via un attimo via un attimo via un attimo ok merda merda ancora 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 riescono a colpirmi raga dobbiamo ripararci ripariamoci ok ci siamo allora il problema sono quelli lassù allora vediamo un po' lì facciamo così facciamo così avete sentito raga che ha detto che era colpa sua ok perfetto ok qui c'è un altro civile lo aiuto fantastico però eh allora adesso merda ma che cazzo lanciano cazzo lanciano sti cosi oh santo dio bam 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 e adesso ok ci siamo separati stai bene meraviglia me ne sono stato buono come mi hai detto resta me ne sono me ne sono stato buono allora c'è un cecchino questo ci potrebbe fare effettivamente del male oh mi piace arrampicarmi così raga ok qui chi c'è bastardo vieni qua perfetto sei finito tutti i punti per noia raga questi qua allora qui mi incastro un po' però non è un problema sono belli duri eh aiutiamo il tipo che si è fatto male perfetto ok dai ci sta per me ci sta non so esattamente ok probabilmente di qua eh vabbè tipo è normale che ci hanno paura io comunque li sto aiutando tutti quelli che ma che cazzo sparate alla gente tutte bestie sparate al vostro culo hai poca energia dove minchia la ricarico ok raga entriamo e merda questi ci fan male però distruggere i pannelli ricevuto ci provo io non ho ancora ben capito a dirvi la verità cos'è che devo distruggere eh sono onesto ah è quello ok 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 merda sto subendo troppi danni raga via ok 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 adesso dovrei in teoria ripigliarmi un po' ok ok pannello bam fatto ammazziamo sti infami perché se no ci muoio ok raga allora con calma con calma raga perché qua ci sto crepando male ok qua ci siamo perfetto aia che botta merda raga c'hanno quell'arma lì che tira le legnate che è fortissima allora esaurite l'energia che non è un bene forse che posso ricaricarla da qua allora ragazzi è un problema non so come ricaricare l'energia allora qui non mi posso ricaricare da questo no aia allora energia 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 uh si raga da qua da qua si ok ora ci siamo torniamo giù e qui ce n'è un altro per dopo ok fantastico di cui abbiamo fatto questi ok li abbiamo neutralizzati raga eh sempre tranquilli comunque stiamo facendo i buoni e facciamogli vedere che non tutti dato che hanno il potere sono terroristi ok su io li sollevato r2 ok devo tarrellare r2 mamma mia raga è complicato perché non sono abituato ai giochi dove si usa così il pad intendo proprio il touch pad è la parte che si tocca perfetto neutralizzato dovreste essere contenti merda raga questo è grosso come cazzo lo butto giù preferisco i tipi più piccoli ok giocare sporco preferisco sicuramente i tipi più piccoli sorbi frammento via allora potenziamento disponibile raga guardiamolo subito perché sennò qua è un casino che la metà basta allora andiamo qui andiamo qui e vediamo un po' che cosa possiamo potenziare posso potenziare proiettile fumo e mi sa e basta però premi r2 per scegliere un attacco ok potenzia esplosione di cenere tieni premuto r2 per rilasciare una potente esplosione di cenere e fumo richiede karma di livello 2 ok allora per il momento posso soltanto potenziare questo raga lo potenzio lo potenzio ragazzi perché c'è qui il bestione e come dire merda merda che colpo mi prendo il frammento che tacchi a cazzettiri bestia tua sorella nuda via 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 merda raga no questo fa veramente malissimo ok per sparare un proiettile fumo allora ragazzi quello lì grosso non possiamo colpirlo con la catena merda dobbiamo per forza colpirlo così se non lo manco è meglio diciamo allora raga è stra stra potente raccogli via 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 allora raga non è non è facile eh qui l'ho preso che cazzo perché ma sì ma quanto corre raga cioè mi sta bene tutto ma amico amico quanto corri cioè insegnami maestro allora ripariamoci un attimo che sennò qui siamo morti e andiamo ad ammazzare questi qui normali che sono bocche di fuoco in meno ragazzi eh aia sto cazzo di minigun dai ripigliati assorbi ok potenziamento cioè ho assorbito il frammento adesso andremo anche a potenziarci ma io qui posso distruggere tipo tutto bam ok no vediamo un po' devi stare indietro merda raga io ho tolto la corazza questo è quello che mi lancia le bombazze però ora sono morto via 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 sono morto raga invece no non sono morto vi apro la gabbia via vi apro anche questi via ok raga ok 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 ci siamo ci siamo ci siamo ci siamo allora vediamo un po' bam 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 aia si no 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 che cos'è oh che cos'è sta triangolo 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 perché non mi fa il triangolo non mi fa usare il triangolo raga ok ecco fatto dovevo andargli dietro a quello scudo lì e tu boro dove cazzo vai fantastico uff santo dio santo dio se non dovesse funzionare vorrà dire che ti sei sbagliato e potremmo comunque tornarcene a casa allora diciamo che potrebbe aver ragione come potrebbe non aver ragione io intanto mi sono assorbi potrei del super agente beauty ok il super agente ah è questo qui questo qua è questo qua raga andiamo da sto stronzo ehi come va bello vediamo un po' ragazzi se possiamo assorbirlo no niente beh ha funzionato non c'è tempo per verificarlo i duppi mi attaccano da ogni parte e allora scappa credo che seguirò il tuo consiglio assorbi fumo ok missione completata raga perfetto benvenuto a siattol tre potenziamenti disponibili quindi noi ci andiamo a vederli e li andiamo a mettere assolutamente assorbimento rapido però non è ancora sbloccato allora in questo caso ragazzi non so se tenermi frammenti per potenziare direttamente cose successive o usarli guarigione nei condotti richiede karma positivo di livello 2 ah ragazzi guardate ci sono anche delle cose che richiedono il karma negativo per sbloccarle e quindi a questo punto qui ragazzi possiamo dar sfogo alla nostra cattiveria io penso intanto sblocco questo e non ho nient'altro per il momento da sbloccare ok ragazzi allora da ora in poi chi se lo merita possiamo punarlo malissimo fantastico signori io spero che questo nuovo incredibile video su infemus vi sia piaciuto nel caso vi sia piaciuto pollice nel su commentate condividete io come sempre vi saluto e vi ringrazio tantissimo se non siete iscritti al canale mi raccomando ragazzi iscrivetevi qui da vostro caro brutal un salutone bella raga bella